Su, coraggio. Prova anche tu, Eivor. Vieni. Mettiti qui e guarda verso i fiordi. Prendimi la mano. Ecco così. Non ero mai stata così in alto. Tuo padre mi portò qui molto tempo fa, quando avevamo diciannove inverni. Insieme impilammo delle pietre, facendo dei kairn. Questi? Sì. Pensala come una prova di intelligenza e ingegno. Impila le pietre verso l'alto, in qualsiasi forma desideri. E come si vince? Si vince giocando. Il premio è una mente serena. Lascia che l'aria e la bellezza della natura ti placchino. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.